indubbiamente la vita del passato non richiedeva di essere sempre così pronti e così precisi come dobbiamo essere noi oggi. La grande maggioranza della gente misurava il tempo sì certo perché normalmente come dire la giornata già da sola si scandisce abbastanza bene tutti vedono l'aurora che annuncia l'alba se sono già svegli l'alba poi come dire la giornata progredisce è chiarissimo quel momento in cui sei intorno al mezzogiorno e poi si comincia già andare verso il pomeriggio e poi c'è l'imbrunire per le esigenze della grande maggioranza della gente nell'antichità o nel medioevo questo era più che sufficiente non ci sono treni da prendere cartellini da timbrare e quindi funziona così c'è un senso del tempo che si accontenta di essere impreciso.